Prima di andare al video, non dimenticarti di iscriverti e di lasciare un like per supportare il canale. Probabilmente sei stanco di sentire che dovresti bere acqua tutto il giorno e che l'acqua è importante per la tua salute, vero? E sai perché l'acqua è così importante per il buon funzionamento del tuo corpo? Il corpo è composto per circa l'80% d'acqua, e non possiamo durare più di tre giorni senza di essa. L'acqua è essenziale per la digestione, l'assorbimento dei nutrienti e le reazioni chimiche, il trasporto e il metabolismo di proteine e carboidrati, l'eliminazione delle tossine, e il controllo dell'appetito. Inoltre, il nostro corpo ha bisogno di acqua per regolare la temperatura corporea, proteggere il sistema nervoso. Lo sapevi che la mancanza di acqua è ciò che provoca affaticamento durante la giornata? Inoltre, anche una diminuzione del 2% dell'acqua nel corpo può innescare problemi come confusione, problemi con la matematica di base, oltre a problemi a focalizzare le scritte, sullo schermo del computer o su un libro. Con il passare della giornata, il corpo accumula acqua attraverso l'ingestione diretta o indiretta. Si pensa che la gravità sia responsabile della concentrazione di tutti i liquidi nella regione inferiore del corpo poiché di solito trascorriamo l'intera giornata seduti o in piedi. Questo accumulo può causare un po' di gonfiore. Bere acqua di notte aiuta, perché quando si beve acqua, e ci si sdraia a letto, iniziano una serie di processi. Distendendo il tuo corpo orizzontalmente, tutta l'acqua che era concentrata nelle parti inferiori del tuo corpo, arriva allo stesso livello dei tuoi reni, il che facilita il lavoro dell'organo per filtrare le impurità. Inoltre, bere acqua prima di andare a dormire aiuta ad accelerare il metabolismo. Questa abitudine aiuta anche, a bilanciare gli ormoni, i livelli di energia, i muscoli e le articolazioni. Ti aiuterà a rilassarti e svegliarti riposato, grazie a tutti i nutrienti dell'acqua che agiscono sul tuo organismo. L'acqua pulisce naturalmente il tuo organismo, rimuovendo tutte le tossine che sono state assorbite durante il giorno. Porta con te una bottiglia d'acqua, quando stai andando a letto, così non ti dimenticherai di bere. Sfrutta questi consigli per migliorare la tua salute, ed il tuo sonno. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici.